Parte da oggi anche alla Spezia la campagna referendaria della CGL per l'eliminazione dei voucher e il ripristino della responsabilità solidale negli appalti. Stamani tutti i delegati e gli iscritti della Camera del Lavoro Spezzina erano in sala d'ante per fissare un obiettivo, portare al voto, quando sarà definita la data del referendum dal governo, almeno il 50% più uno degli spezzini. Noi ci muoveremo sicuramente facendo una campagna elettorale che abbia una forte base sul territorio, nel senso che molte lavoratrici e molti lavoratori, soprattutto i lavoratori a voucher, i lavoratori parasubordinati, abbiamo oggettive difficoltà a incontrarli sui luoghi di lavoro, spesso anche perché sono ricattati, non avendo per l'appunto nessun diritto. L'obiettivo del referendum è quello di garantire stessi diritti e stesse tutele a tutti i lavoratori. Il nostro obiettivo è innanzitutto quello di vincere il referendum e cancellare i voucher e ripristinare la responsabilità solidale negli appalti perché crediamo che siano due settori che sono stati fortemente sfruttati in questi ultimi vent'anni e la situazione purtroppo si è aggravata notevolmente con la crisi economica. Sul palco della sala d'ante i delegati della CGL per portare la voce dei lavoratori dal mondo dell'industria, dei servizi, del pubblico impiego e delle copp. A tirare le fila Nino Baseotto, segretario nazionale di organizzazione della CGL. Noi presentiamo due quesiti che sono un po' l'apripista, il modo per aprire la strada a una proposta di legge molto più ambiziosa che è la Carta dei diritti universali del lavoro. La Carta dei diritti universali del lavoro è l'idea moderna e nuova di sostituire quel labirinto di leggi, leggine, provvedimenti che da tanti anni si sono affastellati nella legislazione italiana, di cancellare tutti questi e di sostituirli con un'unica legge di 96 articoli che sia un nuovo, moderno e inclusivo diritto del lavoro in Italia, che non faccia più differenze. La cosa fondamentale della nostra proposta è l'applicazione. Noi proponiamo una legge che si applichi indistintamente al lavoro dipendente, a quello appare subordinato e anche al lavoro autonomo. La richiesta è che il governo Gentiloni indichi presto la data in cui recarsi alle urne. Perché il referendum sia valido dovranno andare al voto almeno 26 milioni di italiani. E così la CGL Spezzina ha fatto appello agli iscritti anche attraverso un vademecum per informare le persone. Il prossimo appuntamento con la campagna referendaria sabato 11 febbraio in Piazza Beverini per la giornata nazionale per i due sì al referendum.